buongiorno signori e per biellese territorio straordinario anche oggi vi raccontiamo una storia incredibile di una casa che ha delle parti a due particolarità una ve la dirò alla fine l'altra è una pagina di storia veramente fantastica e quella ve la racconteremo quando venite a vederla a casa ma intanto guardate di che immobile vi stiamo parlando oggi siamo nel comune di roasio biellese territorio straordinario in ogni angolino del biellese qualcosa di straordinario e oggi vi andiamo presentare qualche cosa che ha veramente della magia al suo interno innanzitutto parliamo di una villa che ha due unità abitative completamente distinte ognuna con la sua autorimessa guardate l'edificio bellissimo un edificio fine ottocento primi del novecento e andiamo a vedere qualche cosa di più di questa casa e questa foto potrebbe già dire tutto e presentare l'immobile stiamo parlando di una casa di sapore di una casa che ha della storia all'interno che ha delle opere d'arte che sono veramente tanta roba e poi l'ultima cosa straordinaria verrà di bella dirò alla fine questa scala con tutta questa ringhiera in ferro battuto inchiodato a caldo per chi conosce sa di cosa sto parlando guardate tutti i decori diafreschi sono i suoi originali e quella che porta all'interno dell'abitazione chiamiamola padronale l'abitazione padronale composta di un salone la cucina tre camere da letto tutto questo vano ad ingresso un bagno la possibilità di fare il secondo poi abbiamo un terrazzo con una vista che incantevole questa veramente è una casa di sapore nel salone del del della casa non poteva mancare un camino è una casa che un'anima che viva e che ha una storia da raccontare che è veramente molto molto particolare la cucina signori ha le dimensioni di un bilocale e il bovindo che vedete è all'interno di una delle due torri che svettano sul tetto della casa dalla cucina usciamo in questo porticato bellissimo esposto sole pieno e dal porticato abbiamo questo terrazzo che vede la bellezza di questo biellese che è un territorio straordinario guardate i marmi di questa di questo scatto vedete vedete questi 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 marmi quali vedete in realtà non sono marmi ma è un affresco fatto all'epoca in cui è nata la casa che ci racconta le abilità che aveva chi ha decorato questo immobile sembra a vederlo sul posto sembra di toccare il marmo in realtà è una è un affresco in marmorino andiamo a vedere di questa casa la zona notte vi ho detto che ha tre camere da letto la camera da letto matrimoniale ha di nuovo un bovindo che è la seconda torre dell'edificio e le volte signori guardate gli affreschi è tutto originale questi parlano da soli e veramente quando verrete a vedere l'immobile vi raccontiamo la storia di questa casa che è una storia importantissima della seconda guerra mondiale il bagno è stato rifatto nuovo per cui abbiamo doccia vasca tutti i sanitari impianto di risca la casa è fantastica apposta di tutto oltre a questa unità qui abbiamo un'altra unità che è composta di un salone la cucina due camere da letto e due bagni anche qui abbiamo un caminetto la casa si presta a questi cammini bellissimi abbiamo un caminetto come vi dicevo due camere da letto e due bagni anche qua sono state fatte opere di ripristino vedete che i bagni sono stati rifatti tra l'altro abbiamo una camera da letto che è enorme che potrebbe avere contenere le due camere ogni unità poi alla sua autorimessa e questa è la casa vista da fuori le due rimesse queste questa fanno parte della proprietà la zona padronale e questa parte qui alta l'altro alloggio ce l'abbiamo in questa zona qua un ingresso che da che serve alla parte padronale e un ingresso che serve nell'altra l'altra abitazione per cui completamente indipendenti a questo punto a questo punto ecco la po la cosa straordinaria di cui vi parlavo prima perché sicuramente poi per chi non è di biel a questo punto dirà sì sì ma una proprietà che si a quanto la vendono qual è il prezzo ma quanto costa questa proprietà solo solo 230 mila euro se vi dico che il bielese un territorio straordinario che i migliori investimenti di qui ai prossimi vent'anni che voi potete fare vedete con le banche adesso le banche tedesche problematiche anche lì le banche francesi che sono sotto un controllo perché non si capisce gli immobili signori comperate immobili guardate loro in questi giorni ha passato i 60 poi è sceso quasi a 57 gli immobili signori non avete bisogno di consigli d'amministrazione che voi che voi non riuscite a decifrare un immobile è di vostra proprietà lo vedete lo toccate ne godete guardate vivere in una casa così è qualcosa di fantastico siete immersi nella storia per soli 230 mila euro che saranno 230 mila euro migliori a livello di investimento di una vita per chi non conosce il biellese adesso sicuramente c'è un'altra domanda perché di che starete chiedendo sì ma biellese deve essere una zona così brutta per vendere delle case così a quel prezzo che qualcun qualche cosa ci sarà no 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 perché il biellese vedete il biellese è quello che sta passando adesso il biellese è una meraviglia se abbiamo creato una community che si chiama biellese territorio straordinario è perché veramente il biellese è un territorio straordinario a questo punto fermati ancora un attimo se non conosci biella vai a vedere il santuario mariano d'europa vai a vedere il lago di viverone vai tu digita passeggiate da fare in montagna nel biellese non crederai ai tuoi occhi vai a vedere che cos'è rosazza che è stata definita la rene le chateau noi a rosazza potremmo portare il mondo se il biellese fosse stato capace di promuoversi negli anni passati quello che oggi è rene le chateau in francia che è una zona suggestiva bellissima nei pirenei ci sono stato un'infinità di volte anche quest'anno a gennaio ma noi ce l'abbiamo a rosazza perché abbiamo la stessa identica storia solo che di là avevamo berengers sonniere e qui da noi abbiamo federico rosazza pistoletti la stessa identica storia vai a vedere che cos'è il ricetto di candela un borgo fortificato dell'anno mille dove il tempo si è fermato vai a vedere il parco naturale della bessa dove dove abbiamo cenni storici a partire da 3.000 anni prima di cristo sono tutti spunti tu non credere nulla potrei contarti un fracco di balle per vendere vedete oggi per vendere chiunque ti conta delle balle ti dice che i suoi studenti guadagnano 5.000 dollari al giorno tutte cazzate tutte cazzate che servono a farti prendere quel po di denaro che hai metterlo lì e fartelo sparire noi ti facciamo investire il tuo denaro vai a vedere la baraggia del biellese che cos'è o il parco più bello d'italia che il parco della burcina vai a vedere l'oasi zegna una delle ferrate più belle che poi io metto questa ferrata qui nel biellese perché la potete fare con i vostri bambini che è l'infernone assordevolo e in bicicletta signori tu puoi andare a pedalare veramente nel paradiso terrestre perché biella è un paradiso terrestre il biellese un paradiso terrestre fa il giro dei castelli del biellese abbiamo venduto in questi giorni abbiamo venduto grazie ai video che lanciamo in rete a una signora che abita ad axen provano e allora vedeva le nostre presentazioni venuta a biella ha comprato poi un appartamento qua ma axen provano è bellissima voi se conoscete quella parte della della francia la conosco molto bene ma quando tu arrivi nel biellese ti rendi conto che c'è quella scintilla in più e questa cosa è indiscutibile e oltretutto siamo felici perché tutte le persone che comprano da noi alla fine ci dicono quello che dici non è vero perché il biellese è molto più bello di quello che stai raccontando per chi non ci conosce vedete tutta la nostra storia su questi canali come abitabiella agenzie immobiliare biellese territorio straordinario che la nostra community ma soprattutto vai sul nostro sito che www.abitabiella.it la presentazione di oggi non ha ancora il video perché una cosa è una new entry assoluta pensate che quella casa non l'ha ancora vista nessuno per cui potresti essere il primo a breve lancieremo in rete poi il video questa signori è la nostra sede qui avete tutti i nostri telefoni arrivate da dove volete se volete parcheggiate l'auto qua vi accompagniamo noi e vi facciamo fare un tour del biellese e questa cosa qui non ce la siamo inventata adesso sono 47 anni che vivo in questo settore per 10 anni ho costruito case dal 76 all'86 e dall'86 ad oggi fa 37 anni che vendo case poco tempo fa qualcuno diceva ma sì ma allora ma te quanti anni hai quando ho iniziato a lavorare ho 62 anni e lavoro signori da quando ne avevo 15 il biellese signori biellese territorio straordinario e oggi vi abbiamo proposto qualche cosa di straordinario come il biellese se questa presentazione ti è piaciuta signori lasciate un like che ci fa molto piacere ricordati solo 230 mila euro non credere a nulla telefona andare a vedere questo immobile costa il doppio di niente viene viene a vedere che meraviglia che perla di biellese ti stiamo proponendo per soli 230 mila euro puoi inoltre iscriverti al nostro canale e attivare la campanella su youtube che abita biella agenzia immobiliare così ogni volta che abbiamo delle cose straordinarie come quella di oggi tu vieni tempestivamente avvisato e mi ripeto e mi chiudo questo è il miglior investimento della tua vita non chi ti propone di guadagnare 5 mila dollari al giorno facendo lavorare gli altri sottostando un consiglio d'amministrazione che non conosci e che scrive che dice cose che sono indecifrabili tu qui impegni il tuo denaro porti a vivere la tua famiglia in un luogo che è un paradiso terrestre l'italia l'ho girata tutta signori ed è tutta bella la toscana che è stata molto brava bravissima la toscana a proporsi nel mondo non è bella come il biellese e se non credi a quello che ti dico devi solo far una cosa alzare il culo e venire a vedere per biellese territorio straordinario noi di abita sempre in movimento